buon di fioi, buon di tose o buona sera fioi, buona sera tose, dipende da che ora guarda resto video e buon lunedì, come andemo spero ben, ciao a tutti io sono Sten e da Treviso con furore e con... ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene, si è conclusa nella sua interezza la prima giornata del campionato di serie C, mancavano due gare all'appello una del girone B e una del girone C, rispettivamente Reggiana, Montevarchi e Potenza Bari, tra l'altro quest'ultima partita trasmessa in diretta anche su Rai Sport 1, è terminata 1-1 tra i i rosso-blu Potentini e il Bari, però la mia attenzione ovviamente si è concentrata su Reggiana e Montevarchi in quanto inserita nel girone B. Ho visto una bellissima partita che si è disputata in una città del tricolore, finalmente gremito di folla, di tifosi e quando poi i tifosi della Reggia si mettono in moto ragazzi, è veramente tutt'altra musica e finalmente rivedere lo stadio di Reggio Emilia con il suo pubblico ha un effetto completamente differente rispetto a quello che eravamo abituati fino a poco tempo fa. Nel dettaglio, come vi dicevo, una sfida pimpante con due squadre schierate sul rettangolo verde in maniera speculare, entrambe 3-4-2-1. Ha avuto la meglio la squadra di A e Modiana su quella di Malotti. Prima di concentrarmi sui padroni di casa, due parole sugli ospiti, devo dire la verità, una matricola di tutto rispetto, una squadra molto ben allenata che si è mossa bene in campo, che ha affrontato a viso aperto la blasonata reggiana. Ci sono stati poi due giocatori dei Toscani che mi hanno impressionato positivamente, ovvero Gambale e Barranca, entrambi poi tra l'altro coloro che si sono resi pericolosi e che hanno chiamato all'intervento il portiere Venturi. Dall'altra parte invece una reggiana spettacolare, passata tra l'altro subito in vantaggio dopo pochi minuti, ma l'arbitro, il signor Carrione di Castellamare di Stabia, ha giustamente annullato il gol di Guglielmotti in quanto il cross di Radrezza che aveva aperto l'azione era finito a fondo campo, però il live motive della partita è stato questo, ovvero una reggiana che spingeva sull'acceleratore che ha impegnato più e più volte il compaesano Rinaldi, portierino dei Toscani, però di chiare origini reggiane, fino a passare in vantaggio al trentesimo minuto del primo tempo con un gol di Zamparo e scusatemi il gioco di parole che con una zampata veramente acrobatica è riuscito a battere il portiere dei Moltevarchi e a portare i vantaggi suoi e a far esplodere lo stadio di Reggio Emilia. Tra l'altro poi aperta e chiusa parentesi questo gol condito dall'annuncio del mitico Gabri che colgo l'occasione per salutare e assieme a lui ovviamente un grande abbraccio a tutti gli amici di Reggio, compresi gli amici della trasmissione Severi ma Giusti e della pagina Facebook FaceRagia 1919 sulla quale tra l'altro vi invito a mettere un mi piace. Nella ripresa poi per quanto il Montevarchi abbia reagito si è trovata di fronte a una arcigna e insuperabile difesa della Reggia fino a che al ventiquattresimo minuto del secondo tempo Rozzio ha radioppiato e ha praticamente messo la parola fine su questa sfida sfruttando al massimo uno schema direttamente su calcio d'angolo molto 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 bene questa sera la squadra di Aimo Diana anche per quel che concerne i calci da fermo e i tiri dalla bandierina quindi devo dire la verità che presumo anzi sono certo che i tifosi della Reggia saranno estremamente soddisfatti della prova dei Granata e chiaramente anche di fronte ai risultati della prima giornata che fondamentalmente non rappresentano nulla perché ribadisco il concetto siamo all'inizio della stagione c'è stato lo start praticamente questo weekend alla stagione 2021-2022 comunque già domenica prossima anzi per la precisione lunedì alle 21 vi invito veramente a seguire il primo derby il derbissimo della stagione tra Modena e Reggiana sarà veramente una sfida al calore bianco da seguire attentamente e quindi viste ribadisco le premesse che ci sono state quest'oggi in campo e anche quello che è successo ieri a Grosseto per quel che riguarda il Modena che nonostante non sia riuscita a portare a casa l'intera posta in palio dimostrato veramente di avere un'italaiatura importante credo che lunedì tanti tifosi tanti appassionati si piazzeranno davanti al televisore proprio per seguire questo sfidone veramente importante che comunque ecco potrebbe già dare delle indicazioni insomma estremamente interessanti per quel che concerne questo torneo bene fioi bene tose direi che per il momento il video si può concludere tranquillamente qui però come sempre prima di salutarvi grazie di cuore a tutti e tutte nessuno escluso perché stem e channel rimpingua sempre di più il suo numero di iscritti siamo arrivati a 15.528 iscritti ed è tanta 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 roba bene io direi che dopo questo doveroso ringraziamento nei vostri confronti mi posso congedare tranquillamente qui vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e in attesa dei vostri commenti cosa dirve che ve voglio bene stem e ben e si vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di casastene ciao a tutti